I carabinieri della stazione di Palazzolo a Creide hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un campano di 45 anni con precedenti per reati contro il patrimonio e altro, da poco assunto come badante da una coppia del luogo e che durante la permanenza presso l'abitazione dei coniugi ha trafugato tutti i monili in oro di famiglia. L'uomo si era fatto assumere come badante ma non aveva mai assistito veramente il marito della donna che in più di una circostanza era stato lasciato solo a casa nonostante le precarie condizioni di salute. La donna, insospettita dal comportamento poco professionale del badante e dalla sua improvvisa disponibilità di denaro, ha richiesto l'intervento dei carabinieri di Palazzolo a Creide che hanno constatato in casa il furto di tutti gli oggetti in oro. Le immediate ricerche del 45enne hanno consentito ai militari di rintracciarlo pronto per la fuga all'interno di un bar poco lontano con al seguito un trolley. Le successive verifiche hanno permesso ai carabinieri di individuare a chi erano stati venduti gli oggetti d'oro che sono stati recuperati e restituiti alla coppia. Il fermato è stato invece condotto presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa a disposizione dell'autorità giudiziaria Aretusea.